benvenuti a un'altra puntata di joypad cioè corri salta e spara attenzione che spara a raffreddore covidi no 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 ne abbiamo una ragionevole certezza avendo tamponato uno dei due figli ed essendo esso negativo noi siamo matteo bordone francesco fossetti e alessandro zampini e cominciamo subito col primo argomento qualcuno ha provato con mano xbox series x fermi tenete basse le aspettative per favore ma soprattutto non avevamo deciso che era serie x tu lo avevi deciso era per fare un po la gag su quell'azienda di ingegneri che dà dei nomi di la roba serie x com'è cos'è racconta sto dicendo tenete basse le aspettative perché no no ti devo fermare non possiamo tenere basse le aspettative perché in ogni singola puntata di riff o di raffa due sganassoni a microsoft li tiriamo sempre una volta che abbiamo la console grazie a francesco che con every eye l'ha ricevuta e l'ha potuta provare non è che possiamo per una volta contenerci sbrodola ma no perché ancora l'ho provata soltanto con i giochi di questa generazione che girano sull'hardware di nuova generazione quindi ancora l'effetto meraviglia della next gen non c'è arriverà nelle prossime settimane quando mi manderanno i titoli che avranno gli upgrade grafici per la next gen vuoi dirmi che non li compri cioè fai parte della casta te li mandano è vero quello che si dice che in ragione della della maggiore incredibile potenza di calcolo se uno gioca forza motorsport su serie x anche la ritmo va a 3 80 400 all'ora è vera questa voce attualmente forza motorsport non è compatibile con serie x devono sbloccarla nel prossimo giorno bene questo mi sembra dello stesso livello di google che lancia un nuovo chromecast e non rende stadia compatibile no ma sarà compatibile tutta la libreria di titoli attualmente disponibili entro il lancio però è un'anteprima quella che è un'anteprima come si presenta l'oggetto ecco però mi ha permesso appunto di di avere questo monolite enorme in casa secondo me si presenta insospettabilmente meglio del previsto nel senso che è bello massiccio è bellissima proprio l'unica cosa indiscutibile di quella console che è bellissima sta proprio bene posizionata in verticale perché in orizzontale invece si inchiattisce subito diventa subito una pala sì esatto invece allarme body shaming qua comunque io ve lo voglio dire attenzione il body shaming degli oggetti scusa un attimo ma io l'ho chiamata chiatta ho definito un oggetto citando un altro oggetto perché sei tu che lo riporti tu dici chiatta aggettivo per le donne è tuo il body shaming è tuo è tuo lui dice chiatta quella che va sul mare mamma mia sembra di essere a poligon qua però eh sì eh sì allora quindi appena lo corichi diventa uno scatolo un po' inutile invece in verticale sta molto bene ha una bella presenza ma non troppo aggressiva e c'ha alcuni dettagli secondo me veramente ben realizzati quindi la superficie superiore che ha un un tocco di verde che si intravede a seconda dell'angolazione è assolutamente quel quel dettaglio che gli dà un po' di eleganza in più inoltre la console per il momento non è non è messa sotto stress dal software next gen però è silenziosissima un buon sistema di dissipazione del calore quindi insomma abbiamo superato anche quella l'acqua alta a venezia e poi è velocissima si sente questa cosa che tu schiacci il tastino e dopo un mezzo secondo stai facendo qualcosa meno di due secondi è bellissimo cioè io mi sono accorto in questi giorni che avevo l'abitudine proprio di accendere la console poi buttare il pad sul divano e nel mentre andare in giro fare una partita maggiore no metti una camicia ti guardi allo specchio non così tanto però che ne so sposti organizzi un po' aspettando quei 20 30 secondi soliti e invece appena butto il pad sul divano adesso c'è già l'immagine sulla tv riprenda ma mia agisci subito esatto sarai un vecchio sarai un loser sarai un boomer vorrai giocare e quindi da quel punto di vista veramente ottimo bene altro non abbiamo da dire no abbiamo da dire che i giochi di questa generazione sulla nuova console girano al massimo delle loro delle loro possibilità quindi molto stabili non ci sono scatti singhiozzi insomma nella fluidità alcuni quelli che hanno frame rate o risoluzione sbloccata migliorano in maniera consistente cito monster hunter world o sekiro che su questa generazione di console vanno a 30 ma hanno il frame rate sbloccato quindi la console nuova console serie x li porta a 60 ed è una goduria si avvicina molto diciamo all'esperienza che si può avere con quei prodotti su pc potrebbe essere la prima volta nella storia che un gioco from software ha un frame rate che non sia 14 frame sia stabile esatto è stabile devo dire che è stabile eccoci qua joypad corri salta spara bene questo capitolo da scaletta redatta da zampa vi ricordo di seguire joypad su instagram perché zampa che diciamo onestamente ci tiene io e fossa non facciamo una mazza su instagram rispondiamo un po interagiamo se no fa tutto zampa e sta facendo un lavoro c'è una veramente una comunità di rompicoglioni che noi nutriamo accarezziamo li amiamo tutti riconoscendoli come fratelli quanti sono siamo quasi 1500 beh meritiamo qualcosa di più ricordiamo sempre che non dovete vergognarvi avete superato i 30 avete superato i 40 anche i 50 c'è un podcast c'è un canale che vi vuole bene vi accoglie senza bisogno di subire sempre quelle angherie con gli sguardi di traverso da parte del resto del mondo qui se volete parlare di videogiochi e di prostatite insieme sapete che qualcuno vi ascolta allora l'argomento del prossimo sondaggio del sabato la prostatite ma i giochi qui il capitolo adotta una mia definizione e facciamo parliamo dei giochi mortaccini allora settimana la scorsa puntata abbiamo parlato di ades e del fatto che fosse un roguelite o meglio io ho fatto notare a francesco fossetti come capisca molto poco spesso di quello di cui parla e che quindi abbia palesemente sbagliato sbagliato mira ma che intervenne matteo bordone che dall'alto dei suoi 186 anni abbiamo capito che tutti i giochi per lui li chiama nello stesso modo sì questa però c'è una grande categoria giochi che hanno come elemento portante del gameplay dell'esperienza di gioco la morte e sono giochi mortaccini esatto ce ne sono però diciamo di almeno due categorie più una terza la terza l'abbiamo aggiunta bonus per fare un po il punto su queste categorie di cui negli ultimi anni si sente sempre più parlare che sono i roguelike i roguelite i souls e i pronto bordone metroidvania ognuno di questi ha una ragione specifica è una storia più o meno lunga o radicata il roguelike è tendenzialmente il più vecchio parte dal 1980 da roguelike è perché è letteralmente proprio tipo rogue quindi è nata un genere di giochi che ha alcune caratteristiche specifiche che sono quello degli diciamo del mondo generato casualmente secondo alcuni secondo alcuni paletti precisi di una morte definitiva che ti fa riprendere una partita da zero ogni volta nell'intenzione c'è il sistema di combattimento è anche di movimento è a turni e non è libero come invece nei più nuovi fossetti dice fa già delle facce voi non lo vedete ma io che mi sono documentato ho trovato che nel 2008 sempre tenendo la bocca davanti al microfono nel 2008 fecero l'international roguelike development conference dove stabilirono otto criteri ognuno dava un punteggio per vedere quale roguelike fosse più simile rispetto agli altri tra queste peccato non aver potuto partecipare eh ti saresti divertito proprio tanto interpretazione di berlino perché lo fecero a berlino ora nel tra le tra le conference che comunque emanano una certa aura di sfiga io voglio dire che questa secondo me è almeno ai primi tre posti ai primi due ci sono i furricon perché per evidenti però ci sono i furricon e forse anche il mondo dei miominiponi quelli che colleziono i miominiponi però quelli sono molti molto forti soprattutto essendo ultimamente alleati con la destra suprematista estrema io li lascerei un attimo ok da parte ecco chi ha partecipato chi segue o ancora di più chi si oppone alla linea dell'interpretazione di berlino beh lo salutiamo gli facciamo un abbraccio purtroppo da anni non scopa più e quindi un pensiero è vero questo comunque dimostra quanto questo genere sia in realtà radicato e si sia anche evoluto negli anni perché siamo partiti da rogue che diciamo aveva un po tutte queste caratteristiche e mano a mano negli anni soprattutto nei primi diciamo tra gli anni 80 e 90 giunsero poi delle delle innovazioni di gameplay che ci portiamo tuttora oggi in una enorme categoria dei giochi però perdonami questa cosa dei turni io no non la posso no non è questa iper ortodossia ve lo dico è tendenzialmente quello che ha fatto nascere il genere roguelite fortunatamente che è molto più diciamo moderno contaminato e semplice da utilizzare anche ok quindi il il light diciamo che non viene indicato solo perché c'è un elemento di persistenza al passaggio da una partita all'altra diciamolo più facile devi a rispetto a quegli otto paletti che i matti a berlino si sono messi in testa cioè quando la cosa della di berlino mi piace da matti light non è legato alla facilità del gioco è semplicemente legato a quanto sia effettivamente più simile al rogue originario quindi anche the binding of isaac che propone una morte definitiva quindi ogni partita ogni morte proprio non conservi niente nella partita successiva però non è a turni si definisce un roguelite no non esageriamo con l'ortodossia teoricamente più distante neanche ades sarebbe un roguelite ma è molto più un roguelite stiamo chiedendo di mettere in una griglia di ortodossia delle cose a uno che ha le frasi dell'anello tatuate sul braccio in lingua nera ma figuratevi se a me questa roba può interessare visto che soprattutto i roguelite sono talmente difficili che per me sono ampiamente nel limite della fantascienza io non potrò mai affrontare allora facciamo così io propongo come si sono evoluti facciamo così io propongo lo scisma di milano va bene lo scisma di milano i giochi antiquati che so sono uguali a rogue addirittura sono secondo l'ortodossia di berlino è li chiamiamo mortaccioni e non ci si non ci gioca nessuno poi c'è mortaccioni poi c'è il gioco mortaccino lo scrivo qua a fianco a rogue rogue epics 1980 adesso devo capire se trovo se trovo cosa perché tutti questi giochi sono i giochi mortaccini poi in genere quelli là nessuno li fa i roguelite puri ancora a turni con il con la scuola di berlino che arriva e dai sembra la banda dei quattro mao zettung no roguelite light sono quelli che si rifanno a quel mondo tu ogni volta muori riparti da capo ma c'è un minimo di libertà rispetto alla vecchia ortodossia o ti porti dietro qualcosinina oppure non sei a turni è un gioco continuo cambia anche per dire dead cell può essere un gioco che rientra in quasi tutte le categorie precedenti che nominavamo cioè sia roguelite che metroidvania che volendo anche un souls esattamente come hollow knight che però dobbiamo dobbiamo ancora esplorare allora quindi siamo siamo partiti da rogue e c'è il mondo dei roguelike e subito qualcuno in quel like ha voluto levare l'elemento like di somiglianza e ribadire che non era un'identità ma era solo voglio dire che rogue del 1980 già nell'82 c'era qualcuno che aggiungeva qualcos'altro sono 38 anni fa dopodiché abbiamo roguelite che è in realtà ciò che somiglia a rogue ma con un pochino di leggerezza e poi c'è l'enorme categoria per successo direi anche se c'è più tradizione negli ultimi anni il gioco mortaccino è interpretato da from software più più che da chiunque altro cioè ci sono tanti giochi piccoli indipendenti che sono mortaccini ma i souls like e lì il ruolo della morte è un po' diverso rispetto a quello dei roguelike e dei roguelite perché non è che termina la partita ma semplicemente ti mette a rischio i progressi che tu hai fatto fino a quel momento perché tutta l'esperienza che tu hai accumulato diciamo che rischi di perderla se fai una seconda morte sostanzialmente hai una specie di prova cioè puoi ripartire ti porti dietro qualcosa se rischiati riparti proprio da capo e questi sono dark souls si parte da demon souls demon souls poi tutti i dark souls poi bloodborne poi sekiro tutta la roba di from sì qua c'è ci sono altri studi che sono andati un po nel genere ma ancora nessuno è arrivato più o meno più o meno a quel livello nel gioco inteso come un dark souls perché poi ci sono delle variazioni sul tema che abbiamo già un po anticipato prima che sono fighe tanto quanto però per esempio neo che è uno degli ultimi esempi molto simile per almeno impostazione sistema di combattimento ai souls è comunque un gioco più che solido ma non ha quel non è riuscito ad arrivare dove sono arrivati i giochi di from software ma quelli sono degli assassini cioè quella gente fanatica pazza secondo me è anche lì è proprio per quello che il genere ancora non è esploso perché hai questa gigante da affrontare ogni volta che ne prendi che provi a fare un gioco simile e dici vabbè però me chi me lo fa fare ma è anche bene che non esploda ma si mantiene diciamo è cresciuto e ha una qualità stellare per i giocatori molto impallinati che dedicano tante ore e che sono molto bravi io conosco uno che ha finito il secchio in dieci giorni porca troia anche tu e sia no ma tu fai schifo fai schifo neanche dieci giorni ce l'ha messo di meno adesso mi devo far dire esattamente ma comunque se uno è molto a parte fossa che non vive più non limona più non mangia più fa queste tirate totali per poter dire a tutti gli altri giornalisti videogiochi prima perché quello il suo scopo non è proprio così sarebbe anche già tirato fuori il pisello eccomi sarebbe per scrivere degli articoli ma se vogliamo sul telefono c'è una lista broadcast con tutti quelli della stampa di settoro che si chiama sucate esatto finito 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 platinato platinato va bene vogliamo l'ultima categoria che zampa ha messo ma secondo me è impropria nei giochi mortaccini no allora il metroidvania non è un gioco mortaccino è però una categoria di giochi che ultimamente si sente abbastanza spesso e secondo me se non avete centomila anni è difficile fa parte di nasce da due giochi che è difficile inquadrare ed diventa un po un calderone che non è semplicissimo definire come come gioco se non ne conosci l'origine volevo solo educare il nostro pubblico scusate la saga metroid e la saga castelvania esatto quindi esatto il metroidvania nasce dall'unione di questi di questi due giochi che avevano degli elementi in comune non all'inizio quando sono nati ma soprattutto un po più avanti diciamo che gli elementi più caratteristici ci sono da super metroid e castelvania symphony of the night che sono più o meno una decina d'anni dopo che uscirono i primi numeri e mettono insieme un po tutte quelle dinamiche in parte mutuate da zelda dove tu fai grosso riferimento al c'è grosso utilizzo del backtracking cioè hai un mondo che puoi esplorare ma non tutto subito perché devi sbloccare poteri armi o oggetti che ti permettono di tornare indietro e riguardare quel pezzo di mondo che tu prima non eri riuscito a vedere solitamente sono giochi diciamo in side scrolling quindi dove tu vedi l'omino che si muove di lato però è un genere diciamo un po più confusionario rispetto agli altri perché contiene elementi talmente universali che volendo ci puoi far infilare un sacco di altri giochi che non lo sono propriamente allora io volevo dire che appunto capisco anche perché ci hai messo il metroidvania perché è vero che il metroidvania come macro categoria si è avvicinato a entrambi i due generi che citavamo prima perché per esempio dead cell è un roguelite metroidvania ma anche hollow knight invece è un souls like se vogliamo infatti questi due giochi nello specifico che sono probabilmente tra i due indie più importanti e ben fatti degli ultimi dell'ultimo decennio vanno a pescare un po tra tutti questi giochi perché hollow knight probabilmente è più vicino all'essere un souls anche se puoi definirlo esattamente come un metroidvania la volete finire con queste mille categorie ho una domanda per Matteo come chiamiamo perché quando io dico delle cose vengo vessato subito e zampa può permettersi di dire mutuati mutuato beh ho capito ma mi avete fatto delle storie ma mutuato si usa molto il backtracking mutuato dal ma beh sì ma è vero è vero è vero ma perché zampa se lo metti a fare il come dire il colui che redige il rapporto di qualunque riunione ufficiale cioè quello che mette giù le regole eccetera gli dici zampa è il momento di rompere i maroni e fare l'ossessivo esagera mi esagera mi sento discriminato ma perché tu fai il gagà lui si vede subito che è pazzo tu invece sembri uno con una cosa nella nel taschino un fularino di seta come se io non fossi esattamente al vostro stesso tavolo e andate avanti abbiamo fatto un blocco tutto sui giochi mortaccini e definizione della categoria non è stato chiaro siamo fatti aspetta ne abbiamo definito uno di gioco mortaccino tu dovevi dare delle indicazioni alla nostra utenza e non hai detto niente il genere è il genere dei giochi mortaccini sono i giochi della morte poi il resto più specifico ciascuno vorrà dire io nel giro di qualche settimana pensandoci arrivo con dei neologici non credeteci non lo farà mai eccoci qui questo joypad cioè corri salta e spara finalmente parliamo di giochi nuovi ma in realtà ci abbiamo giocato sì e no sì io no cioè io non ho giocato cominciamo dal primo gioco che è sul sullo televisore adesso alle nostre spalle in pausa ovvero squadrons che cos'è squadrons è il capitolo diciamo è il gioco l'emanazione ennesima emanazione del mondo di star wars dentro al linguaggio videoludico ma è soprattutto la realizzazione neanche di un sogno di un porca puttana che va avanti da almeno 20 anni perché sono almeno 20 anni che gli appassionati i videogiochi dicono vabbè la tecnologia c'è ma porca puttana ma non vogliamo fare un gioco in cui si spara con i tie fighter e con gli x wing con gli x wing e per anni lucas disney eccetera chi se ne è occupato hanno risposto suca e hanno fatto altri giochi in cui si combatteva non in quel modo lì per quanto nella saga sia nella saga originale in particolare nella saga originale ma in assoluto in star wars si è sempre sparato moltissimo le battaglie spaziali sono sempre state centrali un po insomma si chiama la guerra della galaxia nei nei paesi ispanofoni quelli chiamano il mouse raton quindi non li userei come riferimento in ogni caso non l'avevano mai fatto dopo tanti anni il gioco è arrivato si può io non ho seguito le ultime gli ultimi film li vedo poi in ritardo così e mi fanno abbastanza schifo ma ho la sensazione che ci sia stato tutto un filone di revisionismo per cui dai ed è tacco dai ed è punta una volta devi fare l'impero una volta devi fare i ribelli io sono convinto che sia sempre giusto fare i ribelli che l'impero siano dei luridi bastardi però nella storyline di questo star wars ti tocca no una volta fai la cirinna una volta fai gasparri e cerchi di convincerti di quando fai gasparri di essere altrettanto cattivo e stavi solo seguendo degli ordini d'altra parte è bravo bravo io ho iniziato a giocare non ho iniziato non ho ancora collegato il vr non ho ancora collegato perché si può fare tutto in realtà virtuale quello è il vero sogno cioè anche anche qui quando è uscito il vr il primo pensiero di tutti quelli di una certa età ma porca puttana non lo fate che io giro la testa e poi posso provare l'esperienza eccezionale di schiattare in mezzo alle fiamme in un tie fighter fatelo l'hanno fatto il gioco però è arrivato poche ore prima che ci mettessimo qui a registrare questa puntata per cui ho fatto un'oretta di gioco devo dire che all'inizio è molto archeidoso è molto incasinato ricordiamo che lucas nell'immaginare star wars lo star wars originario si rifece ai film della seconda guerra mondiale solo della seconda guerra mondiale e saltò completamente il mondo che cinematograficamente ancora non esisteva ma che esisteva in quegli anni nella realtà degli elicotteri quindi si è nella paradossale situazione in cui nello spazio siderale si usano degli strumenti che sono fatti per andare forte e non per stare fermi che è un'assurdità cioè è molto strano visto che nell'atmosfera facciamo star ferma della roba invece non ci sono i combattimenti sono soddisfacenti dal punto di vista del video e dell'audio nel senso che ci sono campionati suoni originali eccetera ti urlano delle cose dentro alle cuffie e non capisci quello che stanno dicendo e tutto ah sì lo sto perdendo c'è uno in coda esplosioni e cose ho il sospetto che l'esperienza di gioco online possa essere molto caotica come al solito in questo tipo di giochi e anche di più perché ci sono ecco la gatta lanciala pure è che pesa 300 kg è un po' culona un po' culona ancora il body shaming di zampa prima con la consola adesso con la gatta era proprio una roba adesso scrivo a vice tecnica per alzarla costa cioè mi costa fatica non riuscivo a farlo voglio degli atp è bellissima così è sì sì è bellissima così è la nostra lizzo domestica e il gioco secondo me devo ancora non esprimo un giudizio finale però l'han fatto l'han fatto non è spiacevole anzi ma me gli altri non è che fossero no c'è da c'è da dire fps i vari battlefront no no esatto e quelli erano specificatamente dedicati al multiplayer online anche questo ha un focus che va in quella direzione nel senso che la storia finisce presto ai suoi momenti anche molto belli trascinanti però poi è un po più di un tutorial non molto di più esatto è pensato per giocare online quindi insomma è bene premetterlo se qualcuno dei nostri ascoltatori invece vuole vivere un po' avventura interstellare questa è un'avventura piacevole ma breve molto bene secondo gioco chi ha giocato a crash 4 io com'è cos'è e com'è allora crash 4 è il ritorno di una delle mascotte più famose insomma dell'industria videoludica crash bandicoat legata originariamente al brand playstation negli anni 90 sostanzialmente che poi era stata recuperata da vivendi e poi passata da activision dopo i primi tre capitoli diciamo ma senza grandi successo era diventato un platform molto molto sarà perché i primi li faceva naughty dog che sono quelli di the last of us secondo me del talento c'era già con crash bandicoat solo che di recente diciamo che activision si è rimboccata le maniche ha detto rilanciamo la saga quindi prima ha fatto una riedizione dei primi tre capitoli e poi ha fatto questo quarto capitolo it's about time che è un sequel diretto dei primi tre quindi cancella tutto quello che c'è stato nel mezzo la formula di gioco è tradizionale quindi è proprio un gioco di piattaforme anche molto inquadrato e lineare nella progressione però riesce ad essere un po più moderno perché hanno trovato sia delle trovate proprio livello di meccaniche di gioco legate alla presenza di quattro maschere che ti permettono di rallentare il tempo cambiare fase fra due dimensioni fare cose un po' diverse aggeggiare e poi anche a livello di immaginario di colpo d'occhio insomma hanno modernato tutto è un gioco veramente piacevole se ti piace ovviamente il platform classico basato sul salto quello è sul tempismo il salto il platform corri salta spara qui si spara qualcosina si corre si salta esatto la cosa mi state cercando di dirmi qualcosa la cosa importante da dire è che se te lo giochi normalmente quindi superando i livelli senza la mania di completarli al cento per cento è un gioco anche piacevole divertente impegnativo nelle ultime fasi se vuoi fare il cento per cento e prendere tutte le gemme che un po' era anche all'epoca dei primi crash l'obiettivo di tutti quanti diventa mefistofelico è incredibile cioè c'è una fettina minuscola di risultati ottenibili che è solo per giocatori pazzi pazzi è un gioco puoi parlare con la nostra terminologia è un gioco mortaccino ma non ho abbastanza definizioni abbiamo solo una macro categoria è diventato già un calderone cioè abbiamo questa categoria da 20 minuti già non si capisce niente no no guarda il fatto che tu remi contro mi fa schifo among us ecco io oltre a essere il terzo gioco in questo podcast di videogiochi che non ho giocato è però spiegatemi esattamente perché sarà qualche settimana che si vedono immagini meme di questi tizi senza le mani che chiamano emergency meeting e che cos'è esattamente allora among us è un gioco che in realtà non è uscito adesso è uscito due anni fa ma per qualche motivo anzi in particolare il motivo è twitch è tornato diciamo agli onori della cronaca sì di solito i motivi random sono quasi sempre streamer che lo pescano tipo flappy bird io intanto vi faccio sentire l'audio di among us che cos'è among us è lupus in tabula sì sì lupus in tabula si chiama così dalle mie parti si chiama lupi e villici ma perché dalle tue parti è sempre un modo diverso per dire le stesse cose come ci sa il lavandino e diventa l'acqua io lupi e villici non contadini villici villici perché è più bello sempre sempre meno male che non ce n'è uno di torino qua è una versione digitalizzata di lupus in tabula quindi sostanzialmente c'è un gruppo di giocatori sì all'interno del quale vengono eletti due impostori in among us la cornice è una cornice fantascientifica quindi siamo su una nave spaziale e ci sono i giocatori sani che hanno degli obiettivi che devono completare nei turni di gioco per mantenere attive le le strutture il supporto vitale l'ossigeno e via dicendo e ci sono due impostori che invece devono ucciderli siamo su una nave spaziale e questi vogliono sabotare la nave e far morire tutti esatto esatto tu devi mentre fai ti occupi di alcune corvè che sono necessarie per far funzionare le cose devi capire se di nascosto mentre tu fai i cazzi tuoi questi vanno nelle stanze nella sala motorie a sabotare sono i siloni di battlestar galactica esatto a uccidere proprio gli altri giocatori uccidono gli altri rovinano fanno no se se qualcuno li vede alla fine di ogni turno c'è questo emergency meeting e quindi i giocatori che durante il turno non si parlano fanno solo le loro azioni vengono tutti messi in una stanza si attiva diciamo il la chat vocale e i giocatori possono parlarsi e magari uno dice no io ho visto lui che ammazzava ma magari racconta palle perché lui era un esatto magari era un impostore e quindi alla fine di ogni turno c'è un emergency meeting e tutti votano per espellere quelli che credono essere gli impostori quando vieni è espulso viene espulso qualcuno si vede la scena di 2001 di sé nello spazio cioè si vede il lomino nello spazio siderale buttato via e il gioco ti dice sì hai beccato l'impostore oppure no hai cacciato via uno che impostore non era e si va avanti ovviamente se vengono eliminati esattamente come lupus in fabula se vengono eliminati i cattivi gli altri hanno vinto se viceversa i cattivi riescono a far morire gli altri hanno vinto loro il gioco per ma chi lo sa per tuicità adesso si sta vivendo una sua così una sua primavera fra l'altro il team di sviluppo aveva già annunciato un sequel cioè among us 2 che ovviamente in dopo questo grande successo è stato cancellato perché tutti gli sforzi produttivi adesso sono sul primo capitolo e sull'aggiornamento del primo capitolo quindi magari alcune delle idee che volevano mettere nel sequel adesso filtreranno in questo among us vedremo un po come si evolverà e soprattutto se avrà vita lunga perché potrebbe anche essere un fenomeno molto passeggero allora ci si può giocare su pc smartphone ho visto e basta basta occhio a non farlo diventare troppo grosso finché c'è sull'apple store perché poi lo ritirano perché vogliono farci altri soldi e quindi non ci potete giocare più arriviamo al momento polemica in questa puntata di joypad cioè corri salta e spara cioè qualcuno introduca che poi io dico quello che ho capito il grosso merdone di ubisoft è un modo carino per dirlo sì esattamente allora oppure l'ennesimo merdone di ubisoft ubisoft poraci o anche no vediamolo poi lo capiremo con probabilmente la magistratura più avanti negli ultimi anni ha appestato una serie di merdoni inevitabile quando sei un colosso transalpino però insomma diciamo che voci inchieste anche cause su un trattamento non umano punitivo e un ambiente di lavoro tossico negli ultimi anni si sono si sono un po moltiplicati siamo arrivati nelle ultime settimane all'apice probabilmente di questa di questo fenomeno e di questo percorso che è stato un un'inchiesta di liberazione su michael ansell che è il michel giusto francese il creatore di beyond good and evil 2 gioco a suo modo storico di cui ubisoft annunciò un seguito ormai diecimila anni fa senza mai averne mostrato quasi quasi nulla e il creatore di rayman quindi insomma è un personaggio rayman un gioco che che trasuda bellezza da ogni poro stupendi diciamo classici della della tradizione dei videogiochi francesi lui bravissimo figura di riferimento c'è un problema a quanto pare è un ma non probabilmente pure un matto perché sì 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 stronzo ma questa inchiesta parlava di un comportamento oltre che personale anche professionale al limite della sociopatia non sexual harassment no no diciamo un ambiente di lavoro complesso continui cambi di rotta idee che aveva solo lui parte dei progetti cambiati dinamiche meccaniche totalmente rifatte da zero perché non era quello che si aspettava e magari non aveva mai detto che cosa si stesse aspettando e quindi questi due articoli prima uno poi un altro di liberazione raccontano il primo era più un'inchiesta il secondo cioè diciamo il primo era più dava conto di alcune voci il secondo proprio espone il problema in sostanza ubisoft stava realizzando probabilmente insomma si dice ma i pesci che perdi sono sempre i più grossi però si dice che quello sarebbe dovuto essere il più grande gioco francese mai fatto uno dei più grandi giochi di questa generazione però quello fatto in francia e che ubisoft ha dovuto premere il tasto abort mission in sostanza su beyond good and evil 2 perché si sono resi conto che giravano completamente a vuoto ora ultimamente sappiamo come come vanno le cose partono sempre delle denunce sulla tossicità di ambienti di lavoro di contesti eccetera e di solito dietro a questo aggettivo si nascondono molestie sessuali qui molestie sessuali non ce ne sono l'uomo in questione è un creativo probabilmente un po matto ma le cui qualità di creativo sono indubbie perché in passato ha fatto cose meravigliose però anche qui non bisogna fare troppo la politica degli autori conta quello che si fa e tutti noi nella vita abbiamo momenti in cui siamo in forma e altri in cui siamo meno in forma dal resoconto di liberazione succede questo il gruppo di lavoro si è avvitato lui ha cominciato a diventare sempre più esigente alternare momenti di grande esaltazione siete dei geni qua è tutto fantastico lavoriamo da dio a siete delle teste di cazzo non sapete lavorare qui fa tutto schifo cosa credete di fare eccetera tra le cose raccontate tutte da fonti anonime c'è che in beyond good and evil 2 in teoria ci sarebbe dovuto ci sarebbero dovuti essere molti pianeti su cui muoversi e gli sviluppatori hanno detto che come si chiama lui anse 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 gli avrebbe chiesto di rifare diverse volte da capo un mercato di una città indiana ma per mesi e anni di lavoro quindi loro dicevano se dobbiamo fare molti pianeti con questo ritmo di lavoro e queste richieste ci vogliono 30 anni a fare tanti pianeti se una sola un solo un solo luogo in un solo pianeta viene rifatto n volte nel frattempo lui si era costruito il buon michel aveva la sua software house e stava lavorando a un progetto per cui a quanto pare per accordi di fiducia assoluta sviluppatasi negli anni tra guiamo il capo di ubisoft e lui era arrivato a ottenere di poter lavorare come capo progetto di beyond good and evil 2 part time mezza giornata quello mezza giornata il suo lavoro e nel corso del tempo dice liberazione è diventato che lui aveva tutti gli entusiasmi entusiasmi per il suo lavoro e quando era quando dirigeva il gruppo di lavoro di beyond good and evil sparava merda su tutto e non gli andava bene niente c'è da dire c'è da dire che adesso ha mollato anche il suo lavoro non so questa cosa degli entusiasmi probabilmente un po in crisi cioè probabilmente è un 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 creativo che è andato in crisi si è avvitato succede tante volte succede nel cinema succede in tutti i lavori collettivi e andata così fatto sta che noi sto gioco non lo vedremo no no lui ha detto non è stato cancellato è stato però allontanato lui ma ubisoft diceva che già da diversi mesi se non un anno forse addirittura il suo apporto fosse quasi aveva esaurito quello che stava che stava facendo credo che il gioco sia ancora confermato semplicemente senza di lui alla guida e anche l'altro è anche l'altro che si chiama wild e che era stato presentato ad una gamescom ormai quattro anni fa mi sembra dovrebbe essere in buona salute stando alle ultime parole da game designer di di michelle anzelle ok quindi diciamo momento di crisi umana e professionale per michelle anzelle che si leva di torno forse tornerà ma insomma abbiamo abbiamo avuto capita che ci siano autori no abbiamo aspettato duke nukem forever per quasi vent'anni poi è venuto fuori quel bel prodottino possiamo fare la stessa cosa per beyond good and evil 2 speriamo di no sì sì può essere rendi se ci senti per favore stai lontano da questa cosa qua siamo arrivati alla parte finale della nostra puntata quella in cui diamo dei consigli personali e iniziamo da zampa non perché io abbia deciso di far ruotare questa puntata tutta intorno ai roguelite scusami ai roguelite quindi ai giochi mortaccini ai giochi mortaccini vi consiglio di scaricarvi giocare fino alla morte ades di cui aveva parlato francesco due settimane fa perché è una bomba cioè io che sono chiaramente ai limiti non lo so dico della focomelia in base alla coordinazione comunque qua anche se non sono ancora riuscito a finirlo avrò fatto 50 run e ogni volta sei lì a voler fare la stanza successiva per scoprire che potere ti viene dato è un gioco che è praticamente della droga ma fatta e tagliata benissimo se anche non siete avvezzi al genere dei mortaccini comunque questo è talmente dolce nella progressione ti dà talmente tanta soddisfazione anche in una run in cui va male che è difficile staccarsi molto bene d'altronde o la gran parte dei coin op delle origini erano tutti mortaccini non è che a pacman la seconda volta che però quelli erano mortaccini rapinatori c'erano fatti per farti cacciare il grano e di solito giocavi forse 15 20 secondi perché poi morirei malissimo però va detto che quel meccanismo sono morto ma se lo rifaccio adesso sono sicuro che muoio più avanti o non muoio quel meccanismo lì c'è ed è quello dopaminergico vero però per dire in goals and ghost io credo di essere più arrivato alla frustrazione dopo che al cinquantesimo tentativo non ho superato il primo livello e gli quindi diciamo rispetto a goals and ghost un gioco al quale giocavano da piccoli quelli che adesso hanno la mia età quindi 40 anni 45 zampa ha trovato ades quindi ci riconfermiamo come un programma anche adatto al più albergo trivulzio detto baggina e altri luoghi dove gli anziani passano il loro tempo con i videogiochi io a proposito di questo a un certo punto la settimana scorsa insieme a mio amico simone ci siamo parlati un po lui aveva era incappato in un bug che esiste per errore aveva ucciso una persona in death stranding e rinasceva in un punto dal quale non riusciva a recuperare niente oggi i gatti sono particolarmente molesti sono ripartito da capo con death stranding il gioco più bello degli ultimi tempi per me è quello proprio che mi ha aperto il cuore di gioia è uscito lo scorso natale subito prima del lockdown poi l'abbiamo vissuto death stranding l'abbiamo detto tante volte è stato il gioco più profetico in assoluto secondo me di tutti i tempi abbiamo vissuto la condizione di stare chiusi in casa coi fattorini pacchetto di amazon che portavano le cose e interpretare il ruolo di sam porter bridges di nuovo a tutto un altro effetto il gioco che ha un una dinamica di gioco molto molto originale perché nessuno aveva mai fatto prima una cosa del genere cammina porta i pacchi eccetera rigiocato diventa più facile molto più facile il rapporto con questi mostri fantasmatici che con i quali ci si incontrano ogni tanto i bt è molto più lieve il la grande quantità di video che ci sono in tutte le storie di kojima che le rendono un filmone saltando le diventa gestibile e sto avendo grande soddisfazione cioè la seconda volta lo sto facendo come il fanatico cioè arrivare alla fine non mi interessa perché so tutto e quindi lo sto completando porto qualunque pacchettino mi faccio i miei giri vado in giro raccatto pacchetti da tutti e sto imparando cose che non il gioco è talmente grande che io tipo per l'ho finito senza mai usare la corda la corda che serve per legare il gioco si chiama death stranding quindi il concetto di strand di legare di era fondamentale in death stranding se tu impari a parare i colpi dei muli e legarli diventa molto semplice li ho sempre solo menati a con le valigette a valigettate o a calci e non ho mai usato la corda adesso faccio delle incursioni nel frattempo su youtube se vai su tips and tricks trovi una marea di video che ti raccontano come fare piccole cose per esempio al primo giro nessuno mi aveva spiegato che se tu ti liberi di tutto come san francesco e entri nel territorio dei muli senza oggetti loro ti guardano inebetiti come dire tu a cosa serve e tu gli puoi fare un mazzo così senza problemi se hai solo un pacchetto di vigor solo in tasca gli sale il fotone e vogliono ucciderti erano tutte cose che io non conoscevo quindi questo bordone sarà il primo platino della tua lunghissima e futura carriera da completista allora non credo di platinarlo ma potrebbe essere la mia idea è quella di rimanere sempre un po sul lato e gli abbiamo passato completista zampa eh vabbè ma completista si dice io non vengo dalla toscana già questo mi pone comunque in una posizione di grande vantaggio allora io non ricordo una tradizione di comici che vengono da corbetta in lombardia occidentale a ammorbarci la vita invece la toscana li ha prodotti quindi le colpe dei padri fratelli cugini insomma gente viva è che ancora fa e fa danni death stranding rifatto sappiate che se al primo giro ci siete stati dietro tutte le vacanze tutto dicembre le vacanze di natale anche gennaio al secondo giro si va molto più velocemente è agevole e risplende ancora di più alla luce dell'esperienza del lockdown che abbiamo fatto tutti fossa tocca a me e io resto dalle parti dei giochi mortaccini così per lasciarti l'unico che è andato fuori tema in questa puntata sì e cito ghost runner che è un gioco che uscirà a fine mese ed è hotline miami in 3d con un'ambientazione un po cyberpunk in cui voi interpretate una sorta di ninja capace di correre sulle pareti con una lama letale ma molto fragile quindi one shot one kill vale per tutti per voi e per gli avversari e questo è però tutto tridimensionale quindi non più la visuale dall'alto tipica di hotline miami ma insomma visuale in prima persona e l'obiettivo è quello di ripulire le stanze cercando di trovare il modo giusto per affrontare questo insieme di avversari che le popolano quindi insomma bisogna è un po action e un po puzzle quindi bisogna pensare a come agire e poi essere anche bravi a mettere in pratica diciamo questa nostra strategia mortifera saltando sulle pareti correndo sì mortifera ecco zampa credo sia mortaccine mortaccina sempre mortaccina teniamola semplice è tipo puffare ma no è come souls like che usi come aggettivo come sostantivo a seconda mi sembra mi sembra abbastanza vicino per esempio a come ambientazione abbastanza vicino al nuovo doom oppure insomma una cosa del genere un po legnosetto ma bello sto vedendo adesso il il gameplay sì sembra un un fps vecchio però con l'elemento mortaccino esatto e molto e molto cyberpunk cyberpunk è l'estetica che chi è abbastanza vecchio si ricorda degli anni fino 80 primi 90 e che adesso è ritornata in gran spolvero noi tra un po parleremo di cyberpunk cyberpunk esce ci siamo ci siamo cyberpunk 2077 arriva il 19 di novembre quindi quindi noi tra poco ne parliamo non la prossima la successiva forse già la prossima se qualcuno ha un anteprima la prossima la vedo difficile secondo me fra due puntate ci siamo avete ascoltato un'altra puntata di joypad cioè corri salta e spara ciao Grazie a tutti.